Grazie a tutti. 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 Buon poveriggio, buon poveriggio e benvenuti. Grazie a tutti. 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 di rifiuti, più 31% per gli urbani, più 14% per gli speciali, è ricchezza che regaliamo ai paesi, ad altri paesi dove paghiamo e dove spesso questi rifiuti vengono poi utilizzati per produrre energia o per fare altre cose. Sono aumentati i costi di smaltimento, tornerà poi donato su questo punto, in particolare su questo punto che è un'analisi più economica, e gli impianti di incenerimento non ne parliamo perché quelli che erano progettati sono stati accantonati, in costruzione non ce n'è nessuno e ci sono diffuse opposizioni su ogni... Ora, ieri alcuni di noi sono stati ospiti da Maire Technimont che sta qui vicino, grande azienda che costruisce da decenni importanti impianti di raffinazione, che si sta concentrando insieme alleni sulla raffinazione del plasmix, sulla possibilità di far tornare il plasmix materia prima sotto forma di idrogeno, sotto forma di metano, sotto forma di plastiche riutilizzabili, anche questi impianti vengono considerati dei mostri che devono essere abbattuti anziché aggevolati. Guardo qua, se mi cambiate... Questi sono altri dati che aggiungo alla vostra considerazione, Arera che noi salutiamo con piacere perché pensiamo che abbiamo qualche dissidio di merito, ma pensiamo che una regolazione del settore possa aiutare tutto il settore a crescere e favorire gli investimenti. Leggo ieri che il Ministro dell'Ambiente annuncia a trombe spianate che ha firmato il decreto sul riciclo della carta e del cartone, vorrei fargli presente che carta e cartone si riciclano in Italia da un sacco di tempo, ma che poi in due anni siamo riusciti a fare quattro decreti hand waste, quello sui pannolini sembrava che avessimo fatto la rivoluzione mondiale e poi sui pneumatici mi sembra onestamente molto poca cosa rispetto a quello che dovremmo fare. C'è poi un aspetto giuridico che ci preoccupa molto di certezza del diritto, questo è un settore ipertattassato, nel decreto, nel collegato ambientale abbiamo visto l'introduzione del concetto qui c'è Carruba che è un fine giurista dell'ambiente, del concetto di attività potenzialmente inquinanti rispetto al quale il magistrato potrebbe intervenire, i reati o si compiono o non si compiono, non è che ci sono i reati che si potrebbero compiere e quindi, altrimenti viene a finire e a mancare qualsiasi certezza del diritto. Voglio essere chiaro, ieri qui noi abbiamo premiato una sindaca, quella di Vado Ligure, che ha fatto una riconversione industriale molto importante dopo che la magistratura ha chiuso la centrale di Vado Ligure. Ora, la centrale di Vado Ligure sta sulla riviera di Ponente in Liguria, sulla riviera di Levante c'è la centrale di La Spezia, le due centrali sono gemelle, gemelle nella struttura, gemelle realizzate nella stessa epoca, eccetera. Sono dieci anni che mi domando come mai la centrale di Vado Ligure è stata chiusa e come mai la centrale di La Spezia invece continua a funzionare ancora oggi e l'unica risposta che trovo è la totale incertezza del diritto e l'atteggiamento della procura di Vado e di un procuratore in particolare che ne ha combinate di tutti i colori. Evidentemente se io aggiungo criteri di questo genere, caro Carruba, capisci che il campo di intervento potenziale, poi il Ministro ha annunciato un ulteriore disegno di legge, terra mia, nel quale qui c'è una persona che l'ha già subito, viene introdotto il DASPO, come per i tifosi di calcio, per coloro che svolgono attività inquinanti, naturalmente prima che il processo sia compiuto e ci sia la condanna, perché poi quando c'è la condanna siamo tutti d'accordo, c'è una pena da scontare, ma che tu possa commisurare, come si dice, combinare un DASPO a una persona che è potenzialmente indagata, io trovo veramente un ulteriore passo nell'obrobrio giuridico che purtroppo per molte altre cose abbiamo dovuto constatare. Bene, giriamo. Gli obiettivi, li conosciamo, sono sempre quelli, 65% di riciclaggio che per noi significa probabilmente almeno un 80% di raccolta differenziata, perché poi ci sono i residui della raccolta differenziata, 10% massimo in discarica, rimane un 25% che va accoperto fondamentalmente con recupero energetico. Se poi avanzano altre tecnologie che per esempio consentono di sottrarre il plasmix, la parte non riciclabile della plastica all'incenerimento, siamo i primi a gioirne, ma nel frattempo diamoci da fare. Giriamo. Ecco, uno dei punti positivi del ricevimento della direttiva europea è che la direttiva europea indica con chiarezza l'obbligo per i governi nazionali di definire un piano nazionale dei rifiuti. Ora, è vero che le competenze nel nostro paese sui rifiuti sono regionali, ma questo non implica, non esclude che sommando i piani regionali, analizzandoli, analizzando le criticità, analizzando le compatibilità e le incompatibilità sia possibile arrivare alla definizione di un piano nazionale. Per esempio, nel caso della regione Lazio, visto che io vengo da quella regione, qui, forse qualcuno potrebbe fare osservare all'assessore competente, che è realizzare un piano regionale senza mettere una previsione macroeconomica, che non c'è. Cioè, l'economia del Lazio, secondo quel piano, migliora, peggiora, di quanto cresce e quanto non cresce, qualsiasi pianificatore sa che la prima cosa da fare è stabilire il quadro macroeconomico in cui assestarsi. Due, basare il piano sulla previsione di un calo dei rifiuti prodotti del 10%, quando tutti gli indici ci dicono che se l'economia va discretamente bene i rifiuti crescono o al massimo rimangono stabili. Evidentemente l'assessore si augura che la crisi Covid duri per altri cinque anni, quindi gravissima recessione e a quel punto è sicuro che i rifiuti non crescono o forse diminuiscono. E basare il piano del Lazio sull'ipotesi che la raccolta differenziata che nel Lazio è oggi al 44-45% arrivi al 70% in quattro anni, evidentemente è una cosa che non ha senso. Meno 10% di rifiuti più 20% di raccolta differenziata. In questo modo si fanno tornare i conti, ma secondo i nostri conti nel Lazio manca 800-900 mila tonnellate per cui non è previsto alcun smaltimento, alcun trattamento e che continuano ad essere asportate fuori regione. A questo cerco di accorciare, naturalmente voi sapete che il next generation dell'Unione Europea affronta il problema dell'economia circolare e del Green Deal come uno dei punti centrali e quindi potrebbero essere anche disponibili risorse. Noi non chiediamo quattrini. Io so che questo settore ha risorse finanziarie sufficienti per sostenere il piano di investimenti. Quello che gli manca è la certezza di poter realizzare un impianto e regole stabili nel tempo che consentono il ritorno economico sugli impianti. Il collo di bottiglia non sono i denari, il collo di bottiglia sono i processi autorizzativi, sono i comitati del no, sono la vigliaccheria, permettetemi di usare questa espressione, l'atteggiamento da coniglio, dalle amministrazioni, da quelle centrali a quelle locali che non vogliono assumersi la responsabilità. Chiudono gli occhi e preferiscono di gran lungo che i problemi si risolvano con le navi in direzione a Romania o con altri sistemi di questo genere. Gira? Va bene, questo è un riassunto delle cose che dicevo prima, possiamo passare oltre. Ecco, oltre a questo ci sono i finanziamenti che la BEI può concedere e di cui gli imprenditori potrebbero godere. Oggi a tassi di interesse molto bassi c'è l'intervento di Sace e di Cassa Depositi, c'è un clima e un ambiente teoricamente molto favorevole per lo stimolo e l'esecuzione di nuovi investimenti che abbiano a che fare con il vasto settore dell'economia circolare o del Green Deal, se così preferiamo chiamarlo. Queste però sono le cose, non è che il decreto semplificazioni ci ha fatto fare i salti di gioia, c'è ben altro da fare per poter, il fatto stesso per esempio che il Ministero dell'Ambiente decida di fare una commissione via speciale per quanto riguarda gli impianti del PNIEC, poi vedremo che fine fa quella commissione, ma è la dimostrazione del fatto che le procedure ordinarie non funzionano, ogni volta che noi realizziamo qualche cosa in questo Paese è perché abbiamo utilizzato una procedura straordinaria come è stato nel caso del Ponte di Genova o perché abbiamo nominato un commissario o perché abbiamo fatto un atto di forza, è dimostrazione del fatto che quando invece si debbono utilizzare le procedure ordinarie è molto difficile riuscire a realizzare delle cose. Quindi per noi fondamentale sono tutte le procedure relative alla possibile realizzazione degli impianti. Questi sono alcuni dei punti che noi indichiamo per un programma nazionale dei rifiuti, ricognizione impiantistica, linee guida per la pianificazione regionale, monitoraggio dei target di riciclaggio dell'Unione Europea, monitoraggio dei fusi problematici, ce ne sono alcuni importanti, i fanghi di depurazione uno per tutto, fa bisogno di soluzioni impiantistiche di varia asta, i rifiuti dovrebbero essere smaltiti secondo il principio di sussidiarietà. Ora evidentemente quando un rifiuto parte da Marsala per arrivare a Bergamo il principio di sussidiarietà è già andato a farsi benedire. Ora non pretendiamo che tutto venga fatto all'interno di una regione ma almeno in un'area vasta sarebbe sufficiente e necessario trovare le soluzioni. Onestamente che il Mezzogiorno d'Italia non riesca a trovare un sito in cui localizzare o impianti di recupero della frazione umida o termocombustori mi sembra onestamente. L'ultimo impianto di termocombustione in Italia sta a Napoli, oltre a Napoli non c'è assolutamente più niente. Giriamo ancora, qui ci sono altre, abbiamo inviato tutto al Ministero dell'Ambiente quindi di queste cose sono note, c'è un'esemplificazione di che cosa intendiamo per programma nazionale dei rifiuti, un'analisi anche dei flussi merceologici, di comprensione, anche un'attenzione all'innovazione e a cicli produttivi e a tecnologie nuove che possono essere messe in campo per risolvere alcuni di questi problemi. Questo è il conto che presentammo già l'altra volta, quanti impianti ci vogliono? Ce ne vogliono tanti, ci vogliono almeno 40, dipende dalla taglia ovviamente, ma con meno di 40 digestori anaerobici noi non riusciremo mai ad affrontare, soprattutto se vengono autorizzati taglie da 30, 40.000 tonnellate anziché da 100, 200.000 tonnellate come può essere fatto. Sicuramente la frazione umida non c'è dubbio che ha bisogno come minimo di quel numero di impianti, recupero fanghi non c'è dubbio che abbiamo bisogno di impianti, credo che in Lombardia è stato cominciato a pensare anche a un inceneritore dedicato ai fanchi, inceneritori per gli urbani certamente non siamo quelli che dicono un inceneritore per ogni provincia, mi sembra un'esagerazione, ma dalla Toscana in giù 7, 8, 10 servirebbero assolutamente. Per fare che cosa? Anche per recuperare il gap verso l'export e riportare in Italia un'attività e degli investimenti che possono stimolare l'economia. C'è tutto il problema degli speciali, c'è il problema dell'esaurimento delle discariche perché qualche discarica inevitabilmente serve e quelle che sono in funzione stanno andando tutte in esaurimento, come ci raccontano i nostri associati a cominciare dalla Filippa, tutti sanno che oggi è possibile realizzare discariche rispettando la legge e con pieno controllo dei potenziali inquinamenti derivanti da una discarica. 10 miliardi, ripeto, i soldi ci sono, gli investitori ci sono, il problema è le localizzazioni e le autorizzazioni. Abbiamo chiesto, speriamo con qualche risposta, che sia istituito un tavolo comune tra le autorità politiche e gli operatori del sistema, sedersi, confrontarsi, non sugli slogan. Economia circolare non è un mantra, non è che ripetendo economia circolare, economia circolare, magari facendo om, 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 risolviamo i problemi. Economia circolare significa costruire, guardare i flussi dei materiali, realizzare gli impianti necessari, chiudere il cerchio attraverso l'industria e le tecnologie. Se non si capisce questo ci si occupa del riciclaggio delle calze vecchie, attività onorevole ma che non risolve nulla del problema dei rifiuti italiani. ce n'è ancora una o no? E poi c'è il problema degli strumenti economici, Donato interverrà meglio, c'è il problema della Tari, delle scarse risorse finanziarie dei comuni che hanno dovuto spesso sospendere, credo che anche Besseghini tratterà il presidente dell'autorità questo tema. Come vedremo siamo anche critici rispetto alla responsabilità dei produttori che non copre integralmente i costi dei rifiuti da loro messi in circolazione. Bisogna sostenere i prodotti riciclati perché se non c'è domanda di prodotti riciclati c'è poco da fare e poi soprattutto ripensare il tributo speciale di scarica e vincolare il gettito al finanziamento del settore, sono tanti soldi che oggi vanno dispersi in tanti rivoli. Credo di... ce n'è ancora una? Basta abbiamo finito, passo la parola a Donato Berardi. Grazie. Allora prima della relazione di Donato Berardi vi ricordo che siamo in diretta su Ricicla TV e sul canale Facebook e volevo domandare così come avvio la questione una domanda che a voi sembra un po' scontata però in realtà poi non lo è per tutti quindi siccome ci sentono tante persone volevo domandarlo ma è vero che chi ha più impianti alla fine paga meno tasse? Beh se col senso delle tasse poi nella presentazione c'è anche un riferimento puntuale a questa tematica e semmai è vero il contrario che oggi chi ha come dire meno impianti paga un tributo più elevato, paga delle tasse più elevate ed è vero come vedremo che queste tasse più elevate non servono a finanziare una migliore qualità ma semmai sono la manifestazione più evidente dell'inefficienza, dell'inefficacia con il quale la pianificazione regionale, le amministrazioni locali non hanno saputo rispondere ai problemi dei fabbisogni dei territori scaricando evidentemente questo costo poi sui cittadini rispetto a gestire le questioni del consenso e quindi dei NIMBI si è preferito far pagare di più le persone e i cittadini per avere dei servizi peggiori pur di non affrontare il tema della localizzazione degli impianti che poc'anzi il Presidente Testa ci ricordava. Ci arriveremo subito, innanzitutto cercherò di essere breve e di fare un intervento da economista perché il Presidente Testa ha chiuso sul tema degli incentivi e io vorrei parlare una ventina di minuti appunto di cosa serve oltre ad una buona amministrazione pubblica e oltre agli investimenti quindi al tema delle risorse finanziarie e cosa serve per far funzionare l'ultimo degli anelli dell'economia circolare che è poi quello della chiusura del ciclo dei rifiuti in un contesto nel quale siamo tutti consapevoli che nessuna catena come quella dell'economia circolare è mai più forte del suo anello più debole. Se i rifiuti continueranno a rimanere in questo Paese un anello debole l'economia circolare non sarà mai un'economia circolare forte o non sarà mai un'economia circolare che garantirà competitività anche al sistema industriale che su una corretta e adeguata gestione dei rifiuti poi gioca la sua partita nel contesto globale. Perché sono importanti i rifiuti? Sono importanti perché stiamo parlando grosso modo di un valore della produzione di 25 miliardi di euro all'anno, se guardiamo in calcia questa diapositiva ci rendiamo conto che ci sono altri settori dei quali le cronache e le pagine dei quotidiani sono quotidianamente al centro dell'attenzione, pensiamo al dibattito recente sul tema della banda larga delle telecomunicazioni, la questione dei temi della prospettiva e delle assicurazioni e dei fondi pensione. Il settore dell'auto ha una dimensione economica che tutto sommato non è distante da quello del ciclo dei rifiuti. I rifiuti, e non si capisce bene il perché, non riescono mai ad assurgere ad un ruolo di settore industriale, sono sempre un corollario del sistema industriale, salvo quando poi, come l'esperienza recente insegna, o i costi di smaltimento aumentano molto oppure abbiamo un problema di rifiuti che non siamo in grado di gestire in modo adeguato. Allora a quel punto i rifiuti diventano un settore industriale quando siamo nell'emergenza. Di cosa parliamo? Abbiamo degli strumenti economici e questi sono quelli che già oggi utilizziamo, sono la Tari, quindi il tributo che finanzia il settore dei rifiuti urbani, abbiamo dei meccanismi di responsabilità estesa del produttore. Cosa sono? Sono strumenti economici che nascono da un contributo dato dagli economisti peraltro di internalizzazione dell'esternalità, cioè la responsabilità estesa del produttore cos'è in ultima istanza? È un contributo che il produttore sostiene per assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti, in qualche misura essendo responsabilizzato anche dalle conseguenze che sul ciclo dei rifiuti discendono magari da una progettazione dei beni che immette al consumo che produce non pensati per essere poi in qualche misura riciclati. Quindi è un meccanismo di incentivo economico che dovrebbe assicurare in qualche misura un disegno dei beni di consumo funzionale al loro riciclo. Abbiamo quindi gli incentivi alla produzione di energia da rifiuto, gli investimenti pubblici e l'ecotassa. Questi sono gli strumenti che dovremmo utilizzare per fare in modo che la gerarchia dei rifiuti lavori in modo adeguato. Guardiamo come li utilizziamo. Quanto valgono? Non è stata facile questa ricostruzione ma qui vedete una dimensione economica. abbiamo detto abbiamo un valore della produzione del settore dei rifiuti 25 miliardi, gli strumenti economici valgono grossomodo 13 miliardi, quindi metà del giro d'affari della gestione dei rifiuti è finanziato e sostenuto da strumenti economici. Quindi ne dovremmo desumere che le leve economiche per far funzionare il settore dovrebbero essere ben capienti e quindi ci interroghiamo sul perché poi al dunque questa economia circolare non funziona come dovrebbe. Il primo dato è che di questi quasi 4 quinti, l'83% sono rappresentati dal tributo sui rifiuti, diciamo l'Atari. Cos'è successo all'Atari? L'Atari è molto aumentata negli ultimi dieci anni nonostante la produzione di rifiuto sia diminuita. Quindi che cosa l'ha fatta aumentare? L'ha fatta aumentare crucialmente il fatto che abbiamo esteso le raccolte differenziate, i costi della raccolta differenziata sono sostanzialmente raddoppiati in dieci anni e a fronte di questo raddoppio fondamentalmente si è ingenerato un aumento di costi del tributo che l'ha reso anche poi buona misura impopolare. Ad oggi possiamo dire chiaramente che questo aumento dell'Atari non ha corrisposto ad un aumento della qualità del servizio, anzi è come dicevamo proprio al contrario, nei territori del paese nei quali il servizio è di più bassa qualità e quei territori nei quali l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, non pericolosi, quella postulata nel 152 non è soddisfatta. Non essendo soddisfatta si pone un tema di movimentazione di rifiuti da sud verso nord, costi di trasporto, cosicché il divario dell'Atari da nord a sud è in media del 40%, l'Atari a Milano di un nucleo familiare medio è il 50% più bassa rispetto a quella o meglio quella di Roma e Napoli del 50% più alta di quella di Milano, non lo abbiamo detto ma se guardiamo a ciò che pagano le utenze non domestiche, quindi le attività economiche, questi divari sono ancora maggiori. Quindi c'è un chiaro deficit o un chiaro divario di qualità che poi penalizza i territori in termini di competitività del tessuto industriale e penalizza i cittadini. Teniamo presente che oggi l'Atari vale qualcosa come l'1% del reddito disponibile e diciamo la letteratura economica ci dice che questo è un valore in qualche misura soglia anche importante in termini di sostenibilità di possibili aumenti ulteriori di questa Atari, cioè noi non possiamo pensare che il percorso che dovremo affrontare nei prossimi anni di rendere più sostenibile il ciclo dei rifiuti possa essere risolto andando ad addossare in capo agli utenti ulteriori aumenti della tariffa. Quindi abbiamo anche uno strumento, lo abbiamo usato male, il tributo, e oltre ad averlo usato male a questo punto ha anche un po' le armi spuntate. Capiremo ora il perché. Cos'è? La responsabilità essenziale del produttore, quella sigla EPR, pensata negli anni 90, diciamo alla fine degli anni 90 per sostanziare l'avvio delle raccolte differenziate, nei fatti ha evidentemente sostenuto e non possiamo negare il fatto che abbia avuto un ruolo fondamentale in questi venti anni nel sostenere l'avvio delle raccolte differenziate. Bisogna però dirlo utilmente che i regimi di responsabilità estesa, cioè quelli nei quali i produttori si fanno carico fino ad oggi dei maggiori oneri della raccolta, insistono su qualcosa come il 14% del volume dei rifiuti urbani raccolti e prodotti. Quindi è utile dirlo, abbiamo previsto uno strumento, un incentivo, uno strumento economico importante che però presidia una quota tutto sommato trascurabile dei volumi dei rifiuti che produciamo. Se guardiamo anche a tutti gli altri regimi che non sono quelli solo sugli imballaggi ma anche su RAE e sulle pile, siamo in grado di garantire un ristoro ai cittadini che fanno la raccolta dei costi dei maggiori oneri della raccolta per un quarto delle raccolte differenziate. Molto sta cambiando perché le direttive recentemente recepite, diciamo il decreto legislativo 116 del 2020 sul pacchetto economia circolare ci dicono che dovremo in prospettiva arrivare ad assicurare la copertura di almeno l'80% di tutti i costi efficienti di gestione. Quindi ad oggi i consorzi di filiera e quindi il sistema industriale ha garantito una copertura non capiente ed è utile dirlo grosso modo dei costi della raccolta e del trasporto. Da domani, dal 2024 in avanti, questi contributi che arrivano dal sistema produttivo dovranno coprire i costi integrali della raccolta, del trasporto, del trattamento e anche dell'informazione agli utenti e anche della comunicazione dei dati alle autorità. Questo vuol dire che siamo alla vigilia di un cambiamento importante, cioè i regimi di responsabilità estesa che oggi restituiscono ai comuni grosso modo 480 milioni di euro all'anno, nell'arco di qualche anno dovranno retrocedere oltre un miliardo di euro. Cosa vuol dire? Vuol dire che si aprono spazi importanti nella tariffa, e ritorniamo a quel tema di sostenibilità sul quale vi parlavo poc'anzi, per finanziare cosa? Per finanziare qualità, per finanziare innovazione, per finanziare prevenzione, per finanziare gli impianti per il riciclo che mancano. Questi regimi di responsabilità estesa, peraltro il bilancio è abbastanza chiaro, noi siamo il paese europeo tra quelli che contano, che ha un onere sul sistema industriale tra i più bassi del contesto dell'Europa occidentale. Cosa vuol dire? Che dovremo accettare nei prossimi anni, di nostro buon grado, di vedere aumentare il contributo ambientale che paghiamo dentro i beni di consumo che acquistiamo, perché questo aumento del contributo ambientale segnalerà al consumatore e alla filiera di produzione se quel bene è prodotto in modo sostenibile e dall'altra parte consentirà di sgravare un po' la Tari, con l'ottica che quelle risorse che rimarranno disponibili potranno in qualche modo essere utilizzate per riconvertire una parte del tributo che oggi va a finanziare i costi di raccolta di questi beni soggetti a responsabilità del produttore ad altri fini. Dicevo in primis il miglioramento della qualità del servizio. Questa è una strada, questo è un altro tema, abbiamo il terzo tipologia di incentivi, incentivi alla produzione di energia dai rifiuti. Questi sono dati in qualche misura del GSA, ci fanno vedere quanto abbiamo finanziato, quanto abbiamo sostenuto la produzione di energia dai rifiuti rispetto alle altre fonti rinnovabili. Tutto sommato ci rendiamo conto che abbiamo investito, perché usiamo una parola nobile, investito un sacco di soldi, un sacco di denari, un sacco di trasferimenti che vengono dalla bolletta elettrica per finanziare l'aumento di produzione di energia da fonti rinnovabili principalmente nel solare, principalmente e secondariamente nel biogas. Le biomasse e i rifiuti sono in una scala relativamente di secondo o di terzo piano. Peraltro, se guardiamo all'incentivazione complessiva della produzione di energia da rifiuti, ci rendiamo conto che nel corso del tempo di questi anni recenti abbiamo incentivato sempre meno e abbiamo incentivato sempre meno perché una quota importante o prevalente di questi incentivi sono riferiti alla produzione di gas da discariche di biogas, quindi sostanzialmente legati a tecnologie che in prospettiva vorremmo dismettere. Chico Test ci ricordava prima che le direttive ci dicono che dovremmo scendere dal 21% di conferimento in discarica al 2018 al 10% al 2035, quindi in questi anni l'incentivazione non ha sostenuto quello che in qualche misura era auspicabile, quindi anche la realizzazione degli inceneritori, gli inceneritori li abbiamo osteggiati e in qualche misura abbiamo progressivamente dismesso le discariche, così che le forme di incentivazione stanno andando gradualmente ad esaurimento. Se guardiamo le prospettive al 2035, degli 877 milioni che oggi i rifiuti ricevono come incentivo per la produzione di energia da rifiuto per la parte considerata come fonte rinnovabile andranno praticamente ad esaurirsi a 53 milioni nel 2035. Qui c'è un pezzo importante che probabilmente non riguarda solo l'Italia ma riguarda un po' il ripensamento a livello comunitario perché in qualche misura l'incentivo che può essere dato alle attività di riciclaggio, visto dalla prospettiva di utilizzo, di produzione di materie prime e seconde che in qualche misura si sostituiscono a materie prime e vergini dovrebbe per sua natura potersi configurare come un'attività che contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas serra, quindi non si capisce perché a livello comunitario ancora oggi il riciclo non possa essere elegibile a incentivazione per l'emission trading system, cioè il sistema dei permessi negoziabili con i quali abbiamo incentivato l'energia rinnovabile. Abbiamo un'ecotassa e questo è un altro strumento, il titolo la dice Chiara, abbiamo istituito un'ecotassa a metà degli anni 90 e l'abbiamo istituita col desiderio di dare un segnale alle filiere per dare un segnale ai produttori di rifiuto, consumatori, imprese, sul fatto che la discarica era lo scenario meno preferibile e l'abbiamo istituita anche con l'obiettivo di vincolare una parte di quelle risorse che vengono dal tributo speciale sulla discarica al finanziamento di impianti per il recupero di materia e per il recupero di energia. Orbene a distanza di tanti anni siamo il paese europeo nel quale l'ecotassa sostanzialmente è rimasta ferma ai livelli della sua istituzione, erano 50 mila lire alla metà degli anni 90, molti altri paesi hanno spinto su questo strumento ma hanno fatto leva su questo strumento perché non è solo un tema di onere economico posto in carico a chi produce rifiuto ma è anche un tema di definire un circolo virtuoso per cui la contribuzione che da una parte arriva dai rifiuti che vanno in discarica possa essere utilizzata per finanziare alternative credibili alla discarica e questo da noi non è avvenuto, l'ecotassa è stato uno strumento per finanziare la spesa corrente degli enti locali. Economia circolare o lineare, abbiamo due fenomeni importantissimi che sono sotto gli occhi di tutti, il primo era già in essere, nel 2018 abbiamo assistito alla chiusura del mercato cinese rispetto ai prodotti destinati al recupero provenienti dal continente europeo, dal continente americano, per tanti anni la Cina ha assorbito quei rifiuti che in qualche misura non eravamo in grado di gestire a casa nostra. Questo che cosa ha determinato con l'aggravante dell'ultimo anno dell'emergenza Covid che la razionalità economica che sta intorno all'industria del riciclo è completamente venuta meno. Negli Stati Uniti laddove c'è una tradizione non proprio, come dire, un approccio non proprio, come dire, più pragmatico alle questioni, si sono resi conto che l'economia lineare che va in discarica costava molto meno di un'economia circolare nella quale dobbiamo assicurare il riciclo dei rifiuti, la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riuso. Quindi pragmaticamente siccome ci sono problemi anche di sostenibilità sociale, degli aumenti delle tariffe e dei rifiuti, tutto quello che in qualche misura non può essere più portato in Cina viene portato in discarico, viene portato in incenerimento, il fallimento totale dell'economia circolare. Da noi accadrà la stessa cosa? Crediamo di no, però dobbiamo essere consapevoli che fino ad oggi il sistema di incentivi economici che abbiamo costruito e che ciascuno di noi ha conosciuto e praticato in questi 20 anni basato sul contributo che i consorzi di filiera danno agli enti locali, con gli enti locali che si fanno carico in qualche misura di garantire la raccolta e di vedere ristorata una parte dei costi della raccolta da parte del sistema produttivo, genera le condizioni necessarie perché si arrivi a differenziare, a raccogliere i prodotti in modo differenziato, ma non assicura che questi prodotti differenziati poi abbiano una collocazione. Drammatico il recente rapporto dell'Interpol di qualche settimana fa che faceva luce sui traffici internazionali della plastica e rendeva chiaramente evidente come quello che per molto tempo andava in Cina, non poteva più andare in Cina, è andato per lungo tempo nel sud-est asiatico, più di recente il mercato di destinazione era la Turchia, qualche settimana fa il governo turco ha dichiarato che non accetterà più plastica e carta destinata a recupero in misura che ceda il 50% del proprio fabbisogno, dobbiamo essere più consapevoli del fatto che questi rifiuti in prospettiva dovremo imparare a gestirli all'interno dei nostri confini nazionali. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che se fino ad oggi abbiamo un sistema di incentivi che lavora dal basso verso l'alto ci manca un altro pezzo di incentivi che ci tiri da questa parte, una volta che li abbiamo raccolti, separati, selezionati, dobbiamo a questo punto risolvere questa questione che è plasticamente fotografata da questo grafico. Non possiamo pensare che l'economia circolare si regge con valori di quotazione del macero che è la materia prima e seconda della filiera del recupero della carta del cartone che oscillano da 60 a 6 e ci rendiamo immediatamente conto che con un valore del macero sui mercati di 6 euro a tonnellata non copriremo mai i costi di trattamento. Quindi questo cosa vuol dire? Che abbiamo bisogno di un sistema di incentivi che ci assicuri e ci leghi, ci incardini nei nuovi obiettivi 2025, 2030, 2035 di riciclaggio. Dobbiamo ripensare degli incentivi che lavorano dalla parte finale della filiera e tirano la filiera verso lo sbocco di mercato, dando uno sbocco di mercato alle materie prime e seconde. L'andamento calante del prezzo delle materie prime non giustifica più il riciclo, mi sembra chiarissimo da quel grafico precedente. La convenienza economica, pragmatismo statunitense suggerirebbe di raccogliere in modo indifferenziato e smaltire il rifiuto ci costerebbe molto meno. A questo punto l'economia circolare non gira, cioè quell'ultimo anello dell'economia circolare che è quello della chiusura del ciclo dei rifiuti è l'anello più debole e quindi non funziona neanche tutto quello che ci sta prima. Ci occorrono degli incentivi perché gli obiettivi di riciclaggio non rimangano un bel numero scritto in un decreto legislativo ma diventino un impegno effettivo del Paese a garantire un percorso che li traguarda in un ordine ragionevole di anni. Non dobbiamo commettere lo stesso errore che commette oggi l'amministrazione del Lazio che per non accettare una pianificazione impiantistica responsabile dice che quei rifiuti non ci sono, quindi non si produrranno e nel frattempo continua ad esportare i suoi rifiuti organici e anche quelli indifferenziati verso le regioni del nord. Chiudiamo, abbiamo bisogno di nuovi strumenti economici, noi siamo abituati, la teoria economica distingue due tipologie di strumenti, quelli che vengono detti di command and control, vuol dire definiamo dei divieti, definiamo degli standard ambientali e obblighiamo tutte le imprese ad attenersi a quello standard ambientale. Ci sono poi in alternativa preferibili da un punto rivista della teoria economica, quelli che vengono chiamati strumenti di mercato ed è questo l'elemento di proposta che mi piace oggi di portare in questo dibattito. Perché sono importanti questi strumenti di mercato? Perché anziché mettere un obbligo in capo a ciascuno, a ciascun produttore, a ciascuno in parti uguali, garantiscono la possibilità di negoziare gli obblighi tra produttori in modo tale che a sopportarli siano quelli che hanno delle strutture di costo più efficienti e quindi in qualche misura in termini di sacrificio di produzione, di sacrificio di PIL, di sacrificio di perdita di prodotto, consentono al sistema economico di aggiustarsi in modo più graduale ed in modo più resiliente. Cosa sono questi strumenti economici? Ma li conosciamo già, gli strumenti economici si chiamano sistema di emission trading, si chiamano certificati bianchi, si chiamano certificati verdi, si chiamano certificati di emissione a consumo, sono strumenti economici che abbiamo usato e di cui dobbiamo credo essere anche orgogliosi perché abbiamo un primato come Europa sul tema dell'emission trading e come primato italiano sul tema dei certificati bianchi e dei certificati verdi li abbiamo usati per guidare il sistema industriale, per guidare il sistema produttivo, per guidare i settori chiave del trasporto, dell'energia verso gli obiettivi di decarbonizzazione, verso gli obiettivi di efficienza energetica e di risparmio di energia prodotta da fonti primarie, per guidarci verso gli obiettivi di percentuale di energia rinnovabile. Ma se oggi abbiamo degli obiettivi di riciclo, degli obiettivi di recupero di materia che ci vengono dati dalle direttive comunitarie, il percorso è chiaro. Abbiamo anche le infrastrutture perché sono le medesime infrastrutture con le quali abbiamo guidato gli obiettivi di natura energetica, abbiamo l'impalcatura istituzionale e fatemi dire una volta tanto come sistema paese abbiamo anche il know-how necessario che si chiama avere un GSE, avere un'autorità di regolazione indipendente, avere un gestore del mercato elettrico che può far funzionare questi mercati dei permessi negoziabili. Chiudo dicendo che cosa ci serve? Ci serve innanzitutto un completamento della regolazione rera. Io so che oggi qui ci sono delle aziende associate fise per le quali l'avvento della regolazione è stato un momento abbastanza traumatico, ma lo è stato anche per gli enti locali, per le questioni legate al Covid probabilmente lo è stato anche per le utenze domestiche e non domestiche. Abbiamo bisogno di avere regole chiare che sostengano gli investimenti. C'è stato un grande dibattito e su questo l'autorità immagino che si esprimerà nei prossimi mesi sulla natura, sul perimetro della regolazione, su quello del mercato. C'è un tema che è sicuramente mancato, che è quello della qualità, che dentro al metodo tariffario nuovo in qualche misura è stata giocata un po' con un tono minore, ma perché è arrivata in corso in un momento probabilmente anche non proprio felice quello del Covid ed è mandata soprattutto ad enti territoriali competenti che noi sappiamo bene, guardando cosa abbiamo visto ad esempio nell'esperienza del settore idrico che quando si tratta di scegliere tra tariffa bassa e qualità la scelta è sempre per la tariffa più bassa, la qualità non è importante e questo è evidentemente forse quello che è mancato come segnale anche a questa platea di operatori, cioè il fatto di sapere che la regolazione non vuol dire una scommessa al massimo ribasso sul servizio, ma vuol dire in qualche modo garantire un percorso di innovazione, miglioramento della qualità per gli utenti, miglioramento della qualità tecnica, cioè di come facciamo i servizi, assicurazioni sul fatto che garantiamo degli obiettivi di natura ambientale, sostegno all'innovazione, evidentemente con un equilibrio tra qualità e costi che deve essere in qualche misura trasparente, riconoscibile e che deve in qualche misura assicurare esiti che non di extra profitto, quindi questo è importante, qui credo le persone che sono qui in questo tavolo, chiudo, ho già chiuso, ripensiamo la tassazione ambientale, l'EPR ci darà degli spazi di tariffa, abbiamo detto, non a caso uso la parola tariffa, qui siamo ancora in un mondo del tributo ma noi abbiamo bisogno di avere tariffe e in chiusura, in ultimo abbiamo detto, abbiamo bisogno di incentivi per favorire l'economia circolare, sosteniamo i prodotti da riciclo ma soprattutto pensiamo a strumenti di mercato che ci consentano di garantire l'equilibrio economico di tutte le fasi del riciclo, quindi a cominciare dallo sbocco ma soprattutto sugli investimenti di cui tanto il Paese ha bisogno. Grazie. Grazie Donato Benardi, allora io invito i discussant della seconda parte di questo panel a salire sul palco quindi Roberto Morassù, sottosegretario di Stato del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Antonio Misiani che è in collegamento vice ministro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Raffaele Cattaneo assessore all'ambiente e clima della regione Lombardia e Stefano Besseghini, presidente di Arera. Intanto io vi annuncio che alla fine di questo panel, dopo un'ora della fine di questo panel 17.30 ci sarà un convegno ben web di Fise Assombiente sempre su Ricicla TV e sul canale Facebook di Assombiente che dà il titolo per una strategia nazionale dei rifiuti, tempo scaduto, mettiamo le gambe alla sostenibilità. Partiamo subito con Antonio Misiani, buon pomeriggio, benvenuto, grazie per essere tra noi, sentiamo un attimo l'audio. Lei ha sentito le due relazioni, ha sentito i dati e da poco ha avuto la delega al Green Deal. E allora io le chiedo anzitutto una sua opinione su quello che ha sentito e poi come intende interpretare questo ruolo, se ci può anticipare qualche idea. Grazie, buon pomeriggio, grazie a Fise Assombiente, saluto Chico Testa, saluto chi è intervenuto prima di me, ringrazio per l'occasione di confronto ma soprattutto per l'occasione di apprendimento perché spesso parliamo di economia circolare, di green economy, ci riempiamo la bocca delle potenzialità in termini occupazionali e di creazione di valore di tutto quello che ruota attorno al riuso e al riciclo ma c'è scarsa consapevolezza delle grandezze economiche in gioco e degli ostacoli normativi non solo che impediscono un pieno sviluppo di un settore che comunque vede l'Italia in una posizione assolutamente ragguardevole in Europa. È stato citato in precedenza la necessità di una riflessione sul contesto economico del tutto particolare in cui ci troviamo ad operare, ne faccio un rapidissimo cenno. Stiamo attraversando una fase che inevitabilmente dominata dall'incertezza e dalla paura. È caratterizzata da una severa recessione, noi chiuderemo il 2020 con un calo record attorno ai 9 punti di prodotto interno lordo. È in atto una ripresa rispetto ai mesi drammatici di marzo-aprile in parte di maggio, è una ripresa migliore delle aspettative per molti settori e anche i dati recentissimi sulla fiducia dei consumatori e delle imprese testimoniano un clima nettamente diverso. Rimane una prospettiva di difficoltà, la necessità di stringere i denti ancora per parecchi mesi e nel momento in cui via via superiamo un'ottica meramente emergenziale emerge la necessità di iniziare a costruire il futuro dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale e ambientale. Il tema di un nuovo modello di sviluppo è al centro del dibattito pubblico, è giusto che sia così, è una delle linee guida, la parola chiave di Next Generation EU, del Green New Deal che è il cuore del programma europeo da 750 miliardi varato dalla Commissione e dal Consiglio europeo del 21 luglio. Noi già prima della pandemia avevamo la responsabilità di mettere al primo posto la costruzione di un modello di sviluppo maggiormente sostenibile dal punto di vista ambientale. Quanto è successo in questi mesi rende ancora più indispensabile un'accelerazione da questo punto di vista. Sottraendo me lo lasci dire il tema della sostenibilità da una logica meramente difensiva e mi ricollego a quanto è stato detto in precedenza. La sostenibilità, l'economia circolare fa appunto economia, ha una straordinaria potenzialità di creazione di valore e di occupazione, non può essere vissuta esclusivamente come un vincolo e un limite, ma è invece uno dei driver fondamentali per la ripartenza del Paese e per una nuova stagione di sviluppo. E l'Italia può essere a tutte le carte in regola per essere sempre più un leader europeo nell'economia circolare. Presidente Testa ha ragione, abbiamo un'occasione irripetibile da questo punto di vista. Noi ci siamo conquistati e sottolineo conquistati 209 miliardi di recovery fund, le risorse del MES, del programma SURE, della Banca Europea degli investimenti, quasi 300 miliardi di euro tra grants e prestiti a tasso pressoché zero. Utilizzare al meglio e in tempi celeri queste risorse dà all'Italia la possibilità finalmente di lasciarsi alle spalle 20 anni di stagnazione e 20 anni in cui abbiamo perso sistematicamente posizioni rispetto alle altre grandi economie. Purché abbiamo ben chiaro l'obiettivo verso cui dobbiamo tendere, non è quello di recuperare semplicemente quanto abbiamo perso in questi mesi, ma deve essere quello appunto di un grande sforzo di modernizzazione del Paese, lavorando su progetti che presenteremo nei prossimi mesi che ruotino attorno a due criteri di fondo. La realizzabilità in tempi rapidi e questo chiama in causa tutte le problematiche che sono state evidenziate in precedenza sul quadro regolatorio, ma anche su un clima politico-culturale che negli ultimi 20 anni è diventato progressivamente ostile nei confronti dell'impresa, della realizzazione di infrastrutture, comprese le infrastrutture indispensabili per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti e noi dobbiamo rompere questo clima e cambiare il quadro regolatorio, dobbiamo costruire progetti che siano naturalmente coerenti con i grandi obiettivi strategici di Next Generation EU, ma qui sfondiamo una porta aperta perché l'economia circolare e la transizione ecologica sono al centro della strategia della Commissione europea. Il disboscamento della selva normativa è indubbiamente un punto chiave. Noi col decreto semplificazione abbiamo cercato di fare un passo in avanti e credo che lo abbiamo fatto su tutta una serie di fronti interessati da questa tematica, penso al codice degli appalti, alle regole di realizzazione delle opere pubbliche e anche a diversi ambiti delle politiche ambientali. Credo che abbiamo spazi di miglioramento, lasciatemi usare questo eufemismo, invece mi pare di capire per quanto riguarda la gestione del ciclo dei rifiuti, colgo appieno la sollecitazione di Chico Testa e degli operatori del settore, un'opera di semplificazione normativa non può non coinvolgere un settore che vale 25 miliardi di euro, gli impianti e le infrastrutture che è necessario realizzare. Chiudo appunto con questo punto, lei mi ha chiesto come cercherò di interpretare dal lato del Ministero dell'Economia e delle Finanze questa delega al Green New Deal, la vorrei interpretare esattamente come dicevo all'inizio, credo molto in un modello di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, nel processo di decarbonizzazione, nella necessità di consegnare ai nostri figli un mondo che riesca a fare i conti con l'emergenza climatica, credo che tutto questo possa diventare non solo un vincolo, non solo il necessario cambio del nostro stile di vita, ma anche una straordinaria opportunità di sviluppo e di creazione del lavoro per un paese e un continente che ne hanno disperatamente bisogno. Grazie. Chico vuoi aggiungere qualcosa? No, 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 non devo aggiungere nulla, quello che lui ha detto mi trova fondamentalmente d'accordo, credo semplicemente diciamo una piccola diversità di giudizio, mi è piaciuto molto il suo riferimento al clima ostile che si è creato intorno all'impresa senza rimuovere il quale e senza imprese attive la ripartenza non ci sarà mai, credo che ci sia tutto considerato ancora una sottovalutazione di quanto la normativa italiana sia faticosa, quasi impossibile per il mondo delle imprese, soprattutto poi tutte le attività autorizzative che non hanno paragone con nessun altro paese al mondo, sappiamo tutti dieci anni per aprire un supermercato, vent'anni per autorizzare un impianto energetico, così non si va da nessuna parte purtroppo e bisogna veramente tagliare il nodo gordiano con la spada. Guarda Misiani ci conosciamo da tanti anni, io sono orgoglioso di una sola misura che riuscì a far passare in Parlamento su iniziativa mia, se vi ricordate tanti anni fa se volevate ristrutturare il bagno di casa vostra dovevate chiedere la concessione di Lizia, si riuniva la commissione di Lizia eccetera eccetera eccetera. Io e un senatore, mio collega, introducemmo la dichiarazione di inizi lavori, come si chiama? Diami, per la quale dici ristrutturo il bagno così e così, mi prendo la responsabilità e vai e incominci i lavori e questo ha sbloccato, io credo che avremmo bisogno di die nazionali, voglio fare questo impianto, lo faccio in un'area industriale, lo faccio rispettando le norme e comincio a costruirlo, invece bisogna sottoporsi al rito che io chiamo del bacio della pantofola, andare a trovare il sindaco, l'assessore provinciale quando c'era, quello regionale e poi i capi dei partiti e poi i gruppi, cioè non esiste un diritto oggettivo a fare una cosa, non esiste un diritto oggettivo a fare una determinata cosa, sei continuamente sottoposto alla discrezionalità e anticipo una domanda che farò al mio amico Morassut perché uno dei punti più difficili è proprio il Ministero dell'Ambiente e la commissione via del Ministero dell'Ambiente che è una ritardatrice per eccellenza. Grazie comunque sui principi, siamo completamente d'accordo. Ora vediamo di tradurli infatti il più possibile. Ti auguro veramente buon lavoro. Buon lavoro a tutti voi, mi scuso se devo fare un anticipo. Grazie Vice Ministro. Roberto Morassu, allora lui ha anticipato un po' una domanda, io le domando se condivide il fatto che ci siano alla fine comunque pochi impianti, quindi un deficit strutturale e le domando anche. Questo deficit, qualora lei fosse d'accordo che ci sia, è determinato dalla volontà di avere un consenso politico, in questo abbiamo una responsabilità anche noi giornalisti e i media in generale e quindi assecondare una certa forma di dissenso che crea invece appunto consenso tra le persone oppure se è un problema, un deficit strutturale dato appunto dalle regole oppure da altri fattori? Beh intanto rispondo consapevole di essere un po' sul banco degli imputati, in senso figurato ovviamente. Prima di dare la risposta rapidamente, il tema della complessità amministrativa, burocratica è un tema che va oltre la questione ambientale anche se ovviamente l'urgenza del tema, anche l'autualità la mettono in rilievo e si accoppia secondo me anche al problema di un impoverimento del tasso tecnico delle amministrazioni mediamente. Faccio un esempio, si parlava di via, la questione della via, nel decreto semplificazioni credo che non sia indifferente, che non sia un fatto da mettere, sono stati dimezzati i tempi per l'espressione della via. Dimezzare i tempi per l'espressione della via credo che sia una semplificazione importante, parte il fatto che le semplificazioni hanno un punto limite perché poi bisogna sempre far funzionare bene l'ordinamento, quella è la prima semplificazione, è far funzionare bene le regole che esistono. Ma comunque il dimezzamento dei tempi della via che cosa comporta? Comporta che devi potenziare le strutture, che deve avere più gente che ci lavora sulle cose, se vuoi arrivare a quell'obiettivo nei tempi che ti sei dato, che sono tempi in questo caso anche per entori. E sulla via noi abbiamo costituito una commissione speciale per le rinnovabili, certamente dovremo vedere le repliche dei fatti, però credo che non sia un fatto secondario, il fatto di aver costituito una commissione all'interno del Ministero dell'Ambiente che specificamente si occupa nell'obiettivo della transizione energetica e dell'obiettivo del 2040, delle emissioni zero, del saldo zero delle emissioni CO2, di avere una commissione che specificamente sui progetti per le rinnovabili si occupa delle autorizzazioni. Per gli impianti, il problema degli impianti esiste perché sono i dati statistici che ci dicono che c'è un'enorme disparità territoriale, che questa disparità territoriale alimenta un ciclo illegale dell'economia, perché basta scorrere le ampie documentazioni di due commissioni bicamerali di inchiesta sul ciclo illegale dei rifiuti per sapere che soltanto nel 2018 gli ultimi dati attendibili ci dicono che c'è un giro di 16, oltre di 16 miliardi di euro per le mafie, per le eco-mafie, per il trattamento e il trasporto del ciclo illegale dei rifiuti, che ormai va ben oltre la campagna, le regioni del Mezzogiorno, ma interessa questi territori, la Lombardia, il Veneto, come sapete benissimo. Da che dipende questo? Intanto dipende da una scarsezza di informazioni, cioè c'è un deficit di informazioni. Quando si parla di impianti, in alcune realtà, in alcuni territori si intendono soltanto un certo tipo di impianti, cioè si è un po' ideologizzata la questione intorno a questo tema degli inceneritori, che di fatto non ha nessuna traduzione scientifica, non ha nessuna traduzione tecnica, non ha la capacità di far comprendere ai cittadini, alle comunità, alle reti sociali di che cosa si sta parlando. Secondo, che gli impianti non sono solo gli inceneritori o comunque i derivati, cioè quelli che naturalmente debbono intervenire su quella frazione che ricordava Chicco nella sua introduzione, tra l'obiettivo del 65% di riciclato e il 10% di conferimento in discarica, dove c'è un 25, un 30% di rifiuti che vanno trattati e che possono essere ridotti, per esempio il tema della plastica è importantissimo recentemente, questo per dire che poi qualcosa si fa, al Senato l'abbiamo approvato in legislativa, cioè in commissione senza andare in aula, un provvedimento importante che aumenta la quota di riciclato nella produzione delle bottiglie monouso di plastica. Ma poi ovviamente c'è anche un tema di capacità della politica e di investimenti, per quanto riguarda il tema degli investimenti e della infrastrutturazione dei programmi di sostenibilità, qui non si parte da zero, il tempo non è scaduto, vorrei che fosse chiaro questo, capisco che la titolazione della relazione contiene una provocazione, uno stimolo, ma il tempo è iniziato, non bisogna perderlo, però per esempio come forse ha ricordato Misiani nella sua introduzione, già nella legge di bilancio 2019 noi avevamo messo un fondo triennale, il famoso fondone verde di 4 miliardi e 400 milioni di euro, finalizzato agli obiettivi green, all'infrastrutturazione del sistema della sostenibilità, che significa tante cose, ma anche gli impianti per l'economia circolare, che nei programmi e nelle schede consegnate e che sono in fase di elaborazione del piano per la ricostruzione del governo, il Ministero, la direzione per l'economia circolare, ha inserito tra le schede un programma che è dentro il programma nazionale per i rifiuti, che andrà discusso con le regioni, perché poi sono le regioni che fanno i piani e il Ministero dagli indirizzi, noi abbiamo inserito schede per una programmazione di impianti per altri 3 miliardi, quindi teoricamente già oggi con i fondi programmati e con quelli previsti per il piano della ricostruzione noi possiamo contare almeno sul 60% di quelle risorse, 10 miliardi, che nel programma proposto a suo tempo da Fisi al Suo Ambiente e trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e costituiscono la quantità finanziaria necessaria, tra pubblico e privato ovviamente, per dare una risposta adeguata al raggiungimento di quegli obiettivi. Quindi le risorse sono un problema relativo, il problema sono la concertazione, la discussione e il dibattito pubblico, cioè anche la capacità di coinvolgere prima le popolazioni, non è un problema che riguarda soltanto gli impianti e i rifiuti, ma riguarda le infrastrutture e le grandi opere pubbliche. Un'ultima notazione voglio fare su questo, il programma per la ricostruzione, sono 6 anni, noi abbiamo tempo 6 anni per fare le opere, 3 anni di procedure, di gare, di bandi, 3 anni per la realizzazione delle opere. Bisogna correre, bisogna semplificare, bisogna dare alle amministrazioni strumenti per fare bene le cose, perché purtroppo, ripeto, spesso le amministrazioni hanno perduto capacità tecniche ed è per questo che per esempio nel lavoro di concertazione che noi stiamo facendo per i fondi sviluppo e coesione, la programmazione 2027, il piano operativo ambiente che riguarda il dissesto, ma riguarda anche per esempio le bonifiche e anche il trattamento del ciclo dei rifiuti, noi abbiamo inserito una norma che consente all'amministrazione di avvalersi delle società in house dello Stato, tra cui per esempio in Vitalia, Sogesid, che hanno altissima capacità di carattere operativo, ma dicevo appunto, dare strumenti, le risorse ci sono e dibattito pubblico, cioè le forme della partecipazione, le forme della partecipazione preliminare e anche scadenzata con procedure definite, sono importantissime e queste sono norme per esempio previste nel collegato ambientale. Adesso il collegato ambientale susciterà molta discussione, le attività potenzialmente inquinanti, le norme sui FAS, le norme sulla rigenerazione urbana e sul consumo di suolo, che secondo me saranno importanti e segnalo che tra i decreti endopoeste che stanno per uscire, che usciranno tra breve, ci sarà l'endopoeste sui materiali di riciclo per l'edilizia, perché se tu non dai la possibilità di trattare i materiali dell'edilizia nel cantiere e di trasformarli in nuovi gessi, nuovi calcestruzzi, senza andare a cavare, senza discaricare quello che tratti dalle demolizioni, noi la rigenerazione urbana ce la scordiamo, quello è un nodo fondamentale e noi stiamo lavorando sul decreto endopoeste per i materiali di edilizia e quindi il treno sta camminando, sta camminando con la sua fatica, è molto positivo che ci siano occasioni come queste di stimolo e che vanno anche un po' in controtendenza, perché in Italia è molto facile dire di no, però ci debbano aiutare anche le regioni. Qui c'è un tema che riguarda l'articolazione del sistema decisionale del nostro Paese in tante materie, questo elemento della concorrenza della decisione è una cosa importantissima, noi siamo un Paese fatto di diversità, ma questo è un elemento di complessità anche della decisione. Ora se il piano nazionale dei rifiuti il compito del Ministero sarà non solo dare indirizzi, ma anche definire i bacini macro-regionali che possono semplificare un po' le questioni, però poi serve che le regioni facciano i piani. Voglio ricordare, veramente concludo su questo, che quando noi siamo arrivati al Governo, un anno esattamente un anno fa, la prima questione che ci siamo trovati ad affrontare è stata definire la norma sull'end of west. Lo so che quella norma ha fatto storcere un po' la bocca perché in fondo non si dà completamente alle regioni la piena potestà di rilasciare le autorizzazioni e quindi se non si dà questa piena potestà perché c'è poi un controllo successivo a Valle dell'ISPRA, nessuno mette attenzione perché l'Italia è un paese di diversità e se in alcune regioni, non faccio nomi, tu ti puoi fidare di quello che viene autorizzato nel momento in cui tratti i rifiuti da materia prima a materia seconda, in altre regioni non ti puoi fidare e devi avere un secondo livello di controllo. Questa è la realtà concreta del paese, bisogna sempre tenere conto quando si parla di semplificazione. Quindi Chicco, questo tempo è scaduto o non è scaduto? No ma sai, lui giustamente, poi c'è una diversità di toni, abbiamo sentito da parte di Roberto rispetto ad altri interlocutori che io apprezzo moltissimo, però faccio un piccolo esempio, lui dice quando siamo arrivati c'era il problema in the waste, quando è arrivato lui, quando sono arrivato io il problema in the waste c'era già da un anno, capito? Cioè dal punto di vista dell'impresa non è passato il tuo anno, sono passati due anni prima di riuscire ad avere il decreto, quindi questa è un po' la storia generale, vale per questo e per tante altre materie. No, c'era una domanda che volevo fare, ma scusami tu dici abbiamo dimezzato i tempi per il via, ma cosa succede se il via non viene dato in quei tempi? C'è un silenzio a senso che sarebbe la norma giusta oppure riparte la procedura in un altro modo? Guardo che ruba, non è possibile il silenzio a senso e quindi sono tempi ordinativi, come si dice, ma non prescrittivi o con conseguenze giuridiche. Sì, non sono tempi perentori, sono tempi ordinatori, però attenzione perché nell'operazione di dimezzamento dei tempi noi prevediamo comunque l'utilizzo tecnico e la consulenza dell'ISPRA per arrivare nei tempi giusti, quindi questo è un fatto molto importante perché altrimenti se noi non potenziamo le strutture del Ministero è difficile tenere i 30 o i 35 giorni. No, poi sono d'accordo, rimane la domanda, se non mi dai la risposta in tempo che cosa succede? Passa a precedenza del Consiglio, va da un'altra parte, capisci? È una domanda legittima, poi capisco che trovare la risposta non sia semplice. Andiamo avanti, va. Allora, andiamo avanti e Raffaele Cattano si è tornata in una posizione opposta di difficoltà rispetto a Roberto Morassù perché comunque abbiamo sentito anche dai dati che la regione Lombardia è il fiore d'occhiello dell'Italia, ha dei dati assolutamente incoraggianti e quindi la domanda sarà assai poco aggressiva ed è come mai voi ci siete riusciti e come mai, secondo lei, le altre regioni invece non riescono a fare quello che è stato fatto qui. Tanto grazie, è davvero un'occasione preziosa di confronto questa e anche rara con la possibilità di vedersi di persona dopo tutti questi mesi, quindi ringrazio FISAS Ambiente e gli organizzatori del Verde e del Blu. Dunque, fare il primo della classe è sempre una posizione scomoda, no? Perché il primo della classe, diciamo la verità, sta sulle balle a tutti, no? Quindi se gli puoi mettere la puntina sotto la sedia lo fai volentieri. Io cercherò di non avere l'atteggiamento del primo della classe, però rispetto al titolo del tema di oggi non posso nascondervi un timore. Io ho paura di una strategia nazionale dei rifiuti perché temo che la strategia nazionale dei rifiuti mi tolga anche quel poco di autonomia e di possibilità di fare che abbiamo avuto in questi anni e che ha permesso alla Lombardia di arrivare agli obiettivi che sono stati ricordati da Chico Testa che mi ha rubato la prima parte del mio intervento quando ha aperto questo nostro incontro. La prima cosa che io chiedo al sottosegretario Morassut, di cui apprezzo la cortesia, la disponibilità al confronto e al governo, è quello di lasciarci la possibilità di fare. E purtroppo molte norme nazionali non vanno in quella direzione e ci torno fra un attimo. Però spendo ancora due parole per rispondere alla domanda. Perché la Lombardia ha funzionato? La Lombardia ha funzionato perché in una vicenda che io ho avuto l'avventura di vivere personalmente, perché faccio l'assessore all'ambiente da due anni e mezzo, ma con tanti ruoli diversi, sono in regione Lombardia da 25 anni. Ho fatto per dieci anni il dirigente, poi l'assessore all'infrastrutture, il Presidente del Consiglio regionale, eccetera. Molti dicono che ora che mi tolga dai piedi forse hanno ragione, ma essere lì da tanto tempo mi consente di avere un osservatorio del tutto particolare. Nel 1995, quando io arrivai in regione, insieme a Roberto Formigoni, che veniva eletto allora per la prima volta Presidente della regione, una delle prime cose che ci trovavamo ad affrontare fu l'emergenza rifiuti. E l'emergenza rifiuti a Milano nacque perché i rifiuti di Milano allora andavano tutti tal quale in una discarica che era a Cerno Maggiore di proprietà del fratello di Berlusconi. Fino a che c'era stata la giunta Rosso Verde, con l'assessore l'ambientalista Monguzzi, che i rifiuti andassero lì, andava bene. Quando arrivò Formigoni, che i rifiuti andassero lì, non andava più bene. E quindi arrivarono improvvisamente, chissà perché, gli eco-guerrieri che bloccarono la discarica di Cerno. Milano si riempì di rifiuti. Dopo qualche settimana cominciarono a dare fuoco alle pigne dei rifiuti in città. Insomma, emergenza assoluta. Mi ricorda qualche cosa questa vicenda a me, a me non romano. Esattamente, anche se oggi la pensiamo rispetto ad altre città, ma 25 anni fa questa fu la situazione vissuta a Milano. Io allora venne incaricato da Formigoni, ero dirigente della Presidenza, di coordinare la task force che si occupò di affrontare questo problema. Perché Formigoni era stato nominato commissario. Immaginate quali poteri poteva avere. Però, da quella vicenda così drammatica, che ebbe come conseguenza che i rifiuti che andavano a 90 lire al chilo nella discarica di Cerno Maggiore improvvisamente schizzarono a 500 lire al chilo, nacque una strategia diversa, che è costruita, venne costruita ed è costruita tuttora da due pilastri. Il primo pilastro, quello che allora volevano gli ambientalisti, la raccolta differenziata. Oggi in Lombardia la raccolta differenziata è al 71%. Ma, secondo pilastro, quello che non volevano gli ambientalisti, gli impianti necessari. Noi costruimmo allora le basi, anche con gli atti dei poteri commissariali, per realizzare i termovalorizzatori, con recupero di energia e calore. Oggi in Lombardia ne abbiamo 13, di cui 11 per gli urbani, su 39 in Italia. La Lombardia è il 17% della popolazione, il 20% del pil, ma ha il 33% dei termovalorizzatori. Ma non solo i termovalorizzatori, gli impianti non erano solo quelli. Gli impianti erano quelli per trattare la frazione umida. E oggi in Lombardia abbiamo 68 impianti di compostaggio, ma anche 42 impianti di digestione anaerobica. Tu dici che ce ne vogliono 40 nel Paese, 42 ce li abbiamo in Lombardia. E così via. In Lombardia ci sono 3.300 autorizzazioni ambientali, 300 AIA e 3.000 semplificate. Ci sono 1.850 impianti che trattano i rifiuti. Allora, al sottosegretario Morassute, senza amor di polemica, anzi con grande stima, però io dico, non è che tutti questi 3.300 imprenditori sono mafiosi, no? Non si può pensare così. Non è che tutte le volte che parliamo di gestione dei rifiuti, allora la paura delle infiltrazioni della mafia tende un po' a criminalizzare un sistema industriale. La forza della Lombardia è che noi abbiamo costruito un'alleanza tra le istituzioni e le imprese che ha reso possibile un sistema industriale di trattamento dei rifiuti che insieme alla grande azione di consapevolezza dei cittadini che è stata aiutata dalla raccolta differenziata, per cui la gente ha cominciato a capire che i rifiuti erano un tema serio e che bisogna recuperarli, ha permesso quello che abbiamo oggi. Peraltro devo correggere il Presidente Testa, cosa che non si dovrebbe fare mai, ma i rifiuti che vanno in discarica tal quale in Lombardia oggi sono lo 0,58% degli urbani. Arriviamo al 2,5% non al 4% con l'aggiunta delle frazioni decadenti dai trattamenti. Ma soprattutto il dato di cui io sono più orgoglioso ed è quello su cui dovremo continuare a lavorare è che si può fare la raccolta differenziata anche al 100%, ma quello che conta non è quanti rifiuti differenziamo nella raccolta, ma quanti ne recuperiamo realmente. Perché se poi facciamo la raccolta differenziata ma non abbiamo gli piatti di recupero, a cosa serve? La Campania fa una buona raccolta differenziata, sopra il 50%, ma non ha un impianto per trattare la frazione umida. A cosa serve la raccolta differenziata dell'umido in Campania? Se non per mandare i rifiuti in Lombardia o in qualche altra regione che ha gli impianti. Allora, il dato più significativo è che noi in Lombardia abbiamo il 61,7 nel 2018 di recupero di materia e la media nazionale è il 28%. Questa è l'economia circolare. E poi quello che non si può recuperare come materia, cosa ne facciamo? Lo mettiamo in un buco, cioè in una discarica? No, in Lombardia lo recuperiamo come energia e c'è un 30%, 28% di rifiuti urbani che viene recuperato come energia. Questo è quello che funziona nel modello Lombardo. Peraltro, noi parliamo sempre dei rifiuti urbani, ma i rifiuti urbani in Lombardia sono un po' meno di 5 milioni di tonnellate all'anno. Sapete quanto sono i rifiuti speciali? Sono 33 milioni di tonnellate. 15 di rifiuti da costruzione e demolizione. Io vengo adesso dall'Assemblea nazionale di Anepla a Piacenza questa mattina e abbiamo trattato questo tema e ho trovato una categoria sensibile a quello che diceva prima il sottosegretario Morassù, cioè al riutilizzo dei materiali riciclati anche nell'edilizia, però con tutta una serie di problemi anche normativi, tutt'altro che semplici da risolvere. E ci sono 18 milioni di tonnellate di rifiuti dell'attività produttiva. Ecco, anche di questi noi in Lombardia recuperiamo il 67%, di quelli da costruzione e demolizione addirittura l'87%. Questo se è un modello che funziona, noi non è che pretendiamo di dover essere per forza quelli che tutti devono copiare, però almeno consentiteci di andare avanti. Quello che noi chiediamo al governo e anche all'autority, che ha un ruolo molto importante, abbiamo una collaborazione straordinaria, io ringrazio pubblicamente Stefano Besseghini, perché magari non sempre abbiamo la stessa visione, ma sempre abbiamo trovato lo spazio di ascolto e di confronto. E peraltro su molte cose anche di condivisione del merito. Ma quello che noi chiediamo è che questo sistema possa continuare a esistere, magari possa essere un paradigmatico per scelte altrui. Faccio, chiudo perché non voglio farla troppo lunga, però con due esempi di ieri e due di oggi, su come invece il livello nazionale non ci ha aiutato. Due esempi di ieri sono facilitato, uno l'abbiamo già discusso, l'end waste, quanto abbiamo dovuto penare, e sti decreti, noi abbiamo accettato il principio di cedevolezza, ma che escano, viva Dio, perché almeno se non escono, consentiteci di andare avanti a fare l'end waste, senza bloccare tutta la filiera del recupero. L'altro, forse ancora più grave, di cui non si è parlato, l'articolo 35 dello sblocco Italia, del DL 133, che ha sostanzialmente superato l'autosufficienza, creando le condizioni, la libera circolazione nazionale dei rifiuti. Tutti quelli che fanno recupero possono circolare senza alcun vincolo, e anche quelli che il 19-12-12, insomma, quando sono oggetto di un minimo trattamento, qual è stato il risultato? Che le regioni che non avevano gli impianti, potendo mandare i rifiuti da un'altra parte, si sono tolti il pensiero di fare gli impianti e hanno cercato spazio là dove gli impianti c'erano, cioè in Lombardia e nelle regioni del nord. Con quale modo? Come si fa a cercare spazio in un impianto che è già pieno? Offrendo un prezzo più alto. Il risultato è stato quel più 40% che ci ha fatto vedere prima Chico Testa, che ha spiazzato i territori che avevano fatto la fatica di accettare gli impianti e ora hanno ancora nuti e ammazziati, devono anche pagare una tariffa più alta. Non va bene. E i due esempi di oggi in un secondo, non si può non avere un confronto sistematico tra le regioni e il governo sull'attuazione dei decreti per il ricepimento dell'economia circolare, ma non ce l'abbiamo avuto. Non si può non avere un confronto sulle procedure di semplificazione. In conferenza delle regioni abbiamo fatto un pacchetto di proposte emendative sul tema della via. C'erano una decina di proposte di emendamento condivise da tutte le regioni, peraltro in gran parte proposte dalla Lombardia. Non è stata accolta una, né dal governo né dal Parlamento. E adesso arriva il collegato ambientale. L'abbiamo visto, ce lo diceva il sottosegretario Morassuti negli interventi introduttivi, quanti temi rilevanti contiene il collegato ambientale. Beh, io sono assessore da due anni e mezzo, con il ministro Costa, che è ministro da due anni e mezzo, prima con un governo, poi con un altro, insieme alle regioni mi sono incontrato due volte. Non è possibile. Non è possibile che il governo nazionale pensi che il confronto col territorio si fa attraverso il SINPA, cioè il Sistema Nazionale di Prevenzione Ambientale, cioè la rete delle ARPA. No, il confronto col territorio si fa con i rappresentanti democraticamente eletti, che sono le regioni che a loro volta si confrontano con gli enti locali. Se non inneschiamo questa scelta politica, allora poi sarà sempre più difficile non arrivare allo scontro, perché la logica centralista tenderà inevitabilmente a fare la media e chi come noi vorrebbe rimanere un po' sopra la media, dove siamo oggi, non può accettare che le soluzioni vengano costruite in una logica che inevitabilmente ci penalizza. Allora, siccome io credo di avere qui un interlocutore che ha la capacità di ascoltare e di capire queste cose, spero che ci aiuti ad avere lo spazio per quel confronto di cui abbiamo bisogno straordinario e che penso possa essere di aiuto anche a scelte nazionali più funzionali all'interesse di tutti. Grazie. Grazie, grazie Cattaneo. Hai detto cose precise che io condivido al 99,9%. una precisazione, quando parlo di strategia nazionale intendo dire una cosa per cui si dice la Lombardia è a posto, non si discute di altro, capisci? Ma dove invece succedono quelle cose che tu hai ricordato come conseguenza dell'articolo 35, che peraltro imponeva anche altre cose che non sono state fatte dalle regioni, beh, allora lì qualcuno deve intervenire a dire almeno ad alzare il cartellino giallo, non ci siete. Invece il cartellino giallo non viene alzato. Il primo atto di questo ministro è stato quello di bocciare in Sicilia la proposta di A2A a San Filippo del Mele, sito che io conosco molto bene perché era un sito dell'Enel, dove, scusate, fatemi perdere un minuto, 1996, senti questa Besseghini perché bella, io vengo nominato presidente dell'Enel, mi chiama al telefono il sindaco di Palermo, chi era il sindaco di Palermo nel 1996? Leo Luca Orlando. Evviva. Chico, ma è vero che voi potete farmi un termo valorizzatore a San Filippo del Mele? Dico sì, certo. Ah, formidabile, mi hai risolto un problema perché a Bello Lampo, che è la discarica di Palermo, non c'è più spazio. Chichiamo la prossima settimana, non l'ho più sentito. Nel 2018 vengo invitato a un convegno in Sicilia e la notizia era che il ministro dell'Ambiente aveva bocciato, non sulla base della valutazione di impatto ambientale, ma sulla base di un pregiudizio ideologico del tuo ministro che diceva io non autorizzerò mai alcun termocombustore, che è una legione oltretutto dell'autonomia regionale pazzesca che è passata sotto silenzio. Questa situazione che tu descrivi, paradossale, per cui i territori che oggi hanno realizzato gli impianti si trovano a soffrire la concorrenza di territori che gli impianti non hanno fatto ma che sono disposti, come raccontavo prima, forse tu c'eri già, a pagare 300-350 euro a tonnellata per portare le loro bucce di patate a Montello o nei termocombustori di Era o da altre parti, capisce che è una doppia beffa perché io mi sono preso il sacrificio territoriale e anziché goderne ne vengo penalizzato. Alcuni dei nostri imprenditori sono anche contenti perché ovviamente più lavoro c'è e più le tariffe salgono, però noi invece pensiamo che un principio generale di sussidiarietà almeno di macroarea debba valere. Devo aggiungere una considerazione politica, mi sono promesso di non esagerare da questo punto di vista, però Roberto, come ti riconosciamo la capacità ogni volta che c'è bisogno tu alzi il telefono, ci si parla, ci si incontra, eccetera, eccetera, ma la capacità complessiva del Ministero di interloquire con le regioni, con le associazioni imprenditoriali, con i sindacati, eccetera, è pari a zero. Il Ministero è governato da un solipsista, narcisista, che gli piace farsi vedere nelle sue dirette Facebook in cui ricicla le calze vecchie o salva i pesci in mare, ma non è questo il modo per governare il nostro Paese. Grazie. Allora, dopo questo insolito commento di Chico Testa, sempre fantastico, diciamo, in questa sua schiettezza. Passiamo all'ultimo intervento, abbiamo solo sei minuti, poi dobbiamo tastativamente chiudere, di Besseghini, a che punto è la regolazione? Notizia dell'universo, come domanda, perché... Ma diciamo che adesso un tema che è stato toccato qua, credo che però non sia possibile evitarlo e deluberlo, perché qui l'autorità si trova sicuramente in una situazione di grande delicatezza nel cercare di mettere assieme un compromesso tra una visione nazionale e delle eccellenze territoriali che oggettivamente ci sono, che sono la Lombardia, ma non sono solo la Lombardia, e che paradossalmente implementando modelli regolatori non esattamente identici hanno comunque e garantiscono comunque un successo della filiera. e quindi è evidente che questo è un settore che affronta la regolazione ponendo delle sfide, delle questioni di assetto che non sono per niente banali. Chi c'è per capirsi dopo la Lombardia? Ad esempio, la Regione di Mila Romagna è un evidente ulteriore modello di implementazione, invece di completa regolazione dei flussi, eppure di sostanziale autonomia nella gestione. Il Piemonte è una sorta di soggetto ibrido che ha implementato un modello un po' intermedio, il Veneto pure, tutto sommato, esistono evidentemente... Solo Nord. Sì, vabbè, adesso questo purtroppo è così, è un dato di fatto, ma questo è certamente legato al tema che qui abbiamo toccato direi senza particolare pudore che gli impianti sono poi centrali in tutta questa operazione perché anche la domanda a che punto è la regolazione. La regolazione fino ad adesso ha affrontato una parte del ciclo completo dei rifiuti. Adesso si estende al tema della regolazione della parte cosiddetta di tariffa e cancello che poi vuol dire sostanzialmente quelle degli impianti che però non è un problema di affrontare il tema con una visione censoria o regolatoria rispetto a un astratto concetto, ma avendo in mente l'obiettivo e l'obiettivo è fare quello che questa carenza impiantistica che caratterizza questo Paese si riesca a trovare un assetto, un'impostazione che stabilmente metta i territori nella capacità di programmare, di realizzare e di implementare e di superare questa limitazione impiantistica. Dicevo e richiamavo la diversità delle impostazioni per dire che non c'è neanche quella situazione facile perché uno dice vabbè, lì le cose funzionano e il modello è quello, lì le cose non funzionano e il modello non c'è o è un altro e quindi uno sa che deve semplicemente estendere quello. Quindi se c'è una sfida al concetto di sussidiarietà direi che questa è una di quelle particolarmente importanti e che noi affrontiamo fondamentalmente con l'impostazione che è un po' propria dell'approccio dell'autorità. Quindi si cerca questo dialogo costante con gli operatori, le associazioni, abbiamo creato i tavoli adeguati e sarà evidentemente un percorso particolarmente complesso da questo punto di vista. Ma bisogna mettere a fuoco che l'obiettivo è quello in fondo, è quello di superare il deficit impiantistico oggettivo di questo. Che poi questo debba confrontarsi anche con una differenziata e dettoreogenea governance del settore l'abbiamo detto in tempi non sospetti nel senso che fin dalle primissimi documenti di consultazione dell'autorità questo è un tema che è emerso. Non è un tema che l'autorità può risolvere evidentemente è un tema a cui l'autorità può decidere in qualche maniera di conformarsi costruendo una compliance rispetto al modello oppure cercare con un minimo di advocacy che pure è una funzione propria dell'autorità cercare di stimolare quel minimo di superamento di ordinamento diciamo così di queste differenze per riuscire a rendere perlomeno l'impostazione omogenea perché che la regolazione di un settore come lo dei rifiuti non possa prescindere dalle caratteristiche territoriali dalla governance territoriale dei singoli è direi un dato di fatto ma non è questo un dato di fatto di per sé nuovo ai settori il settore idrico ha affinità da questo punto di vista e qua mi fermo perché so benissimo che se io dico che c'è affinità tra il settore idrico e il settore di rifiuti poi giustamente si segnala esatto si segnala che le due cose siamo ben consapevoli che le due cose sono molto diverse siamo ben consapevoli che questa fase in cui entriamo a un certo punto c'è un passaggio delle slide di Chico che però contesto perché dice aspettiamo da due anni la tariffazione al cancello e questo ritarda gli investimenti questo mi verrebbe da dire di no nel senso che il ritardo agli investimenti nel settore forse non è pregiudicato magari in piccola parte anche da questo ma uno dei motivi di ritardo è stato il fatto che abbiamo anche introitato una richiesta esplicita del settore di aspettare ad affrontare quel tema consolidarne la comprensione quindi questa progressività dell'azione dell'autorità è una delle caratteristiche della regolazione quindi tendrei a salvarla non a pregiudicarla bene grazie siamo due minuti in ritardo però insomma mi pare abbastanza poco dobbiamo lasciare il palco per il prossimo panel che nasce una nuova via per fare impresa selezionato e coordinato da Io Donna e quindi noi scendiamo e vi do appuntamento come avevo già detto per la seconda parte di questo incontro a Ricicla TV e al canale Facebook di Asso Ambiente Ricicla TV per una strategia nazionale dei rifiuti tempo scaduto anche se c'è Tomora Studi no mettiamo le gambe alla sostenibilità grazie volevo grazie e ringraziare Besseghini Cattaneo e Morassut perché credo che se continuassimo a parlarci in questo modo forse qualche risultato potremmo ottenerlo grazie grazie a tutti grazie a tutti